Bene amici, oggi scopriamo insieme la Nautica Esposito Positano 28 Cabin, una barca con una lunghezza fuori tutto di 8,60 m e una larghezza di 2,90 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa è aggiunta allo scafo una grandissima plancetta per la sua categoria, plancetta rivestita in tech come l'intero piano di calpestio della barca, con scaletta di risalita inserita scomparsa qui al centro e relativa doppia maniglia di entibene per agevolare l'uscita dall'acqua. In più è possibile aggiungere anche un'ulteriore maniglia più grande all'interno di questi due fori, ma all'occorrenza si può rimuovere in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri, quindi possiamo passeggiare agevolmente a bordo. Poco più avanti c'è un grande gavone dove lasciare gli oggetti bagnati, qui vedete c'è anche la maniglia appunto per uscire dall'acqua, con relativi ombrinari di scuolo, in questo modo possiamo lasciare qui all'interno gli oggetti e accedere a bordo perfettamente asciutti. Ingresso a bordo che avviene tramite questa porticina ricavata dalla murata di poppa, in questo modo c'è un corridoio agevole, comodo, vedete c'è soltanto questo piccolo gradino per entrare a bordo e accediamo quindi in pozzetto. Pozzetto totalmente libero da ingombri, guardate il piano di calpestio permette un movimento comodo e senza ostacoli, con gavone centrale e comode panchette che seguono il profilo della poppa, in questo modo c'è posto per tre persone, vedete con anche i cuscini tubolari qui installati sulla battagliola di poppa e ci sono anche dei comodi gavoni per aumentare lo spazio di stivaggio, in questo caso ne troviamo due più il terzo appunto inserito qui in coperta. Qui vediamo anche il foro per la predisposizione per una base fissa e un tavolino, in questo modo è possibile generare una vera e propria dinette di poppa con tappo d'imbarco per il serbatoio dell'acqua e il serbatoio del carburante. E a proposito della motorizzazione c'è la sala macchina centrale con un singolo motore Yammer in questo caso da 320 cavalli con trasmissione in linea d'asse, ma possiamo arrivare a due motori da 195 cavalli come potenza massima installabile. Il blocco seduta è in vetro resina spostato sul lato di dritta così come la plancia di comando alle spalle c'è anche questa porticina con mobiletto integrato per appunto lasciare gli oggetti e quando sono quindi in plancia di comando posso in primis scegliere se governare in modalità poggiareni come in questo caso puntando i piedi sul gradino in basso oppure abbassare il boster e quindi manovrare in modalità tradizionale. Quindi mi metto al comando, vedo che ho il timone centrato davanti a me, molto comodo, ben raggiungibile senza nessun fastidio con le ginocchia come vedete e il resto della plancia è totalmente personalizzabile su richiesta, in questo caso vediamo un singolo display Garmin multifunzione centrale, display fornito da Yammer con la motorizzazione e il relativo quadro con lo start e stop, bussola ben raggiungibile e gli interruttori on-off disposti su due livelli su entrambi i lati. Non manca il controller dell'elica di prua, correttore di assetto con i flap, stereo HMR20 qui portata di mano con la manetta per la potenza spostata invece sul lato di dritta. Guardiamo anche la visibilità, questo layout prevede anche l'utilizzo della cappottina per una navigazione con temperature più basse ma possiamo ovviamente rimuoverle e quindi avere un layout totalmente aperto perché il parabrezza vedete è ribassato, dà protezione fino alle spalle quando manovriamo in piedi ma ovviamente con la cappottina possiamo avere una vera e propria protezione integrale considerando anche la presenza del roll bar in vetroresina e l'ulteriore prolunga installata come in questa configurazione grazie all'estensore lì poggiato sulla battagliola. Sulla sinistra c'è un ulteriore mobiletto che è opzionalmente possibile sostituire con un vero e proprio blocco cucina, mobiletto che è modulare perché possiamo ribaltare la porzione superiore per far creare una chaise long e quindi ampliare l'area relax a bordo e un ulteriore gavoncino interno. Ci spostiamo verso prua, c'è il passavanti simmetrico quindi abbiamo doppio passavanti con battagliola che parte qui da centro scafo e riusciamo quindi a muoverci tranquillamente, possiamo anche reggerci sui supporti della cappottina presenti qui o anche sul profilo in acciaio del parabrezza, mentre la battagliola arriva all'altezza del mio ginocchio quindi siamo sempre ben protetti, quindi passeggiamo, vedete c'è la tuga rialzata perché dà spazio all'interno della cabina quindi la vetroresina arriva all'altezza del mio ginocchio e arriviamo quindi nella zona di prua, zona di prua comodissima perché c'è un unico grande prendisole con inclinazione naturale a formare un poggiatesta qui nella porzione rivolta verso poppa, passo duomo che ovviamente può essere nascosto con un ulteriore cuscino, mentre arrivando nella porzione anteriore vediamo che ci sono le bitte per l'ormeggio qui installate sulla falchetta, falchetta in questo layout è in mogano ma ovviamente è personalizzabile secondo le esigenze perché il cantiere esposito assicura una personalizzazione per tutti gli utenti, mentre qui installato sulla coperta c'è il vericello, vericello quindi a vista, ben visibile dalla plancia di comando con relativo vano di ispezione per la catena e poter accedere ai fusibili e ai contatti del vericello e ovviamente essendo qui con il musone in vista una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando comodamente in plancia di comando e quindi imbarcazione comodissima anche in ottica noleggio o uscite familiari. Passeggiamo sul passavanti contralaterale in questo modo vi posso mostrare la facilità di spostamento a bordo perché come vi dicevo i passavanti sono due quindi possiamo muoverci agevolmente a 360 gradi intorno all'imbarcazione. Entriamo quindi in cabina, ingresso centrale con tambuccio qui a ribalta che si può sollevare con la molla a gas, qui troviamo un ulteriore portaoggetti molto comodo dove lasciare portafogli, smartphone e piccoli oggetti ed entriamo quindi con porticina centrale che dà accesso alle scale. Vediamo quindi tre gradini per ridurre il dislivello e quindi accedere comodamente all'interno e qui il layout prevede un divanetto lineare che può essere anche un posto letto aggiuntivo sulla murata di sinistra. Letto matrimoniale nella zona di prua come vedete il layout è open space per garantire massimo comfort a bordo e soprattutto non perdere luminosità, luminosità che è assicurata dalle vetrate laterali e il ricircolo dell'aria ottimale perché ci sono ben due oblò qui sulla sinistra, c'è un terzo qui dall'altro lato e abbiamo anche il passo duomo in alto che garantisce quindi un ottimo ricircolo d'aria. Nella zona di prua quella che possiamo considerare la cabina armatoriale abbiamo ulteriori due vetrate e il letto matrimoniale triangolare con porzione centrale che può essere sollevata a formare una dinetta interna. Qui sulla sinistra ci sono dei comodi cassetti dove riporre l'abbigliamento o in questo caso i documenti mentre qui sulla murata di dritta c'è la zona dedicata alla cucina, in questo caso è assente il piano cottura e il lavello perché è una configurazione voluta da un armatore ma ovviamente possiamo installare qualsiasi tipologia di piano cottura e un lavello. In basso non manca il frigorifero abbattente mentre sulla sinistra c'è un ulteriore mobiletto. Vi mostro infine l'altezza interna, altezza interna superiore al metro e 75 quindi comodissima, riusciamo a stare perfettamente in piedi, si abbassa leggermente nella porzione di prua per dare spazio al prendisole superiore ma è perfettamente vivibile perché c'è un'altezza di 1,60 m ma qui inizia il letto quindi riusciamo a stare seduti e guardate qui quanto spazio c'è, abbiamo anche la predisposizione per inserire le tende e quindi isolare l'ambiente di prua. In cabina separata invece c'è il bagno, bagno quindi con porta indipendente ed entrando vediamo che c'è il lavello rivolto verso la murata, il WC verso poppa, mobiletti per riporre gli oggetti e un ulteriore oblò per favorire il ricircolo dell'aria mentre in alto non manca una mensola. Vi mostro anche qui l'altezza interna perché guardate nonostante ci sia l'impiantistica di bordo riesce a stare perfettamente in piedi quindi barca ottima utilizzabile non solo in ottica noleggio ma comodissima anche per una crociera per due persone e un bambino perché abbiamo anche qui il letto sulla murata di sinistra. E quindi cari amici questa è la Nautica Esposito Positano 28 cabin come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!